buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti qui sul canale twitch gameplays 1973 channel un saluto dal vostro amico salvo sto riprendendo dopo più di un anno il gioco wii e pfu versione ps4 per il semplice motivo che finalmente lo hanno sistemato sono arrivati tantissimi aggiornamenti che hanno risolto moltissimi bug e crash del gioco adesso è giocabile questo mi è stato riferito dal mio amico che l'ha totalmente finito ecco perché sto facendo questa live ragazzi qui su twitch in più ho abbassato anzi ho eliminato la musica perché intendo trasformare poi il video da twitch su youtube e pubblicarlo sul mio canale lì su youtube ragazzi ma voglio mostrarvi le novità che sono arrivate io come dicevo era era da un anno che non lo prendevo ho acquistato come state vedendo i due dlc dovrò comprarmi questo il quattro dlc che compieremo in settimana così avrò tutta la collezione completa ma in più ragazzi se è nata la voce arcade si sbloccano la moneta sopravvivenza la ronda di notte e la moneta sandbox quindi questo gioco è veramente epico molto difficile perché potete scegliere voi livello di difficoltà personalizzando come più vi pare quindi è un gioco sottovalutato è vero ripeto ha avuto tantissimi problemi ma adesso per ps4 li hanno risolti tutti ecco perché lo voglio giocare ecco perché vi auguro una buona visione ragazzi mi raccomando un bel pollice all'inso allora iniziamo finalmente la storia allora io me lo faccio a normale come vedete qua potete decidere personaggi io ai tempi avevo già finito con selly e arthur mi manca solo holly e qui potete scegliere il livello di difficoltà a difficile già è tosto può essere personalizzato è veramente assurdo allora io me lo faccio a normale allora inizia e creiamo il mondo di gioco ragazzi quindi iniziamo l'unica pecca che purtroppo i caricamenti sono sempre un po lunghetti però nell'insieme il mio amico mi ha detto che è giocabilissimo visto che hanno risolto tutti i problemi che aveva all'inizio è andato abbastanza veloce il caricamento posso nella seconda versione nella seconda fase forse ci impiegherà un po più di tempo che mi ricordo che era lento agli inizi ma sono veloce cavolo l'hanno velocizzato a un attimo ragazzi invito fatti di un mio amico salve ragazzi ciao silvio ciao a tutti ragazzi ragazzi sto facendo una bella trasmissione di via più più che da tanto che non lo pigliavo eh sì finalmente lo hanno corretto tutto il bug e i problemi che aveva su ps4 adesso è giocabilito non l'ho mai toccato non l'ho mai detto è bello è bello ah certo sono io e vai bisogna riappinire i dlc e mi massacra allora stamattina ho preso 9 e 9 di quelle eh più presto? 9 e 9 per il fatto di campione ah adesso andrò 10 giusto perché mi mancano ancora 11 per finire ho fatto che non sono fino alle 11 mesi per fare un phone mi piace che non mi piace mi piace appa dove sei? appa lì io devo andare appa 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 sì 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 la sento io devo solo prendere la mia gloria mi? Signora, signora nona, gli dia due scopelotti a Francesco. Mantriamo il risotto. Eh, la sentivo adesso? Non so io come fa, col culo no di sicuro. Eh, non lo so, si vede che hai cambiato le impostazioni, ieri non sentivo. Siii, fantasma, fantasma dell'opera. Siii, fantasma dell'opera. Siii, i-i-i know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha, the power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. It can't be this hard to finish up a day's work, can it? Vai vai Francesco, vai, no, vai vai, vai tranquillo. Allora. Dai, approfitta, approfitta. Allora, fatemi vedere se si sente la vostra voce. Un attimo ragazzi. Approfitta, vai dai dai. Fatemi vedere se si sente la vostra voce. Allora, fatemi vedere se si sente la vostra voce. No, se si sente vado via. Eh, l'ho detto, impostazioni PS, devi andare, tasto PS, eh, auto e dispositivi. Poi tutto sulla chat. Allora, vediamo un po', come si sente. Allora... Allora... Un attimo ragazzo è built in un attimo pass, Eh, guardate un po'. Eh, ti, 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 dimmi. Ti senti? Eh... no no salvo salvo ah no non ti senti ok non mi senti? ok vabbè allora andiamo procediamo non so la microfono fosse la vicina si è sentita va bene lascia così dai lascia così dai vai a farti aiutare il sonno dai non mi senti l'acqua non mi senti l'acqua non mi senti l'acqua ma cosa succede a te prudente? non ti arrivi? ma dove andai? ehi Silvio quando l'ho mai visto vi app più puoi vedere un attimo qua subisci da me non ti fai un'idea troppo hai il terzo persona mi di solo le mani però il gioco è bello Non c'è nulla Sì, 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 sì. E' un bel gioco, e' un bel gioco, sottovalutato. Il nome del popolo! 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 Il 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 popolo! a posto io volevo già mancano 10 pezzi conosci il gioco a Wii e a Pio? Ani conosci il gioco a Wii e a Pio? no guardalo sono in live è un'avventura a sopravvivenza molto bello la storia dei tuoi fratelli lui cerca suo fratello ah si si lo so quello è molto bello ho capito quello si si è tutta una storia adesso finalmente vaga una maraviglia hanno risolto tutti i problemi ho scaricato l'ultimo aggiornamento e finalmente me lo posso gustare si ho cambiato io le realtà come è adesso sono 10 manca ancora 10 si vai metterla si vai a metterla adesso questa ne manca 10 e sono finiti il patto di campione è finito e poi che te dà? l'anello 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 più forte del gioco ma quello poi non si può passare quello si? no quello non si passa lo devi fare per forza ho capito? no e pazienza l'anello più forte del gioco l'anello più forte del gioco che è? che è? che è? che è? è il primo attore che ho avuto da scuola primaria in realtà penso che è il primo attore che ho avuto da scuola primaria un atto adesivo niente niente appiccio passante dai nino tre giorni a star wars adesso prima però voglio vedere com'è no è bello è bello fidati molto bello se no me la sarai presa no è bello è bello quattro live di difficoltà quindi non ci sono problemi nel finirlo allora prendi tutto allora no è bello si perchè si avrà come sono convinto avrà un grande successo star wars c'è di folle harden avrà poi più avanti la metà new game plus metteranno l'aggiornamento gratuito e dei dlc e ci saranno possibili seguiti del gioco tutto da come verrà accettato ma a occhi e croci secondo me avrà un grandissimo successo cioè è solo rapida è difficile c'è tutto c'è un po' diverso da star wars normale però è bello bello graficamente poi è estremamente bello fatevi una ricerca hanno pubblicato gli ultimi trailer c'è anche un gameplay di 27 minuti del volto il volto il volto ah certo dove ho scelto il volto io mi devo attirla a esplorarlo centimetro per centimetro poi è tutto modificabile se è la sporola laser che è il bottino che la cronave può essere personalizzata allora quello non posso fare un piede di porco merda quindi la inutile che ci vado perché non ho il piede di porco alla missione trovata punto di partenza alla venenza qualche qualche pezzo di ferro c'è una spilla da per i piatti ok ribas bloc è utile una pala buona mi metto la pala poi quattro neremo e ci sarà un tesoro ancora 10 poi il fatto dei campioni infatti e poi che facciamo silvia ci vengono a cazzotti vabbè io siamo gli unici avere tutti tutti gli anelli perché avevano anche i due anelli quelli invisibili anche sensibili ha preso in un certo modo si sono due c'è sì sì io ce l'hai in un altro modo deve finire un gioco senza accendere poi no devi finire un gioco senza morire ma è ancora un figlio però will find you on game che ci vuole non ci vuole niente o no finalmente le tasche che curosa partita sta promettendo bene ha trovato un kit espansione tasse sì io non vi dove sei anni anche nino durani o ancora più bravo di me anni avranno città il sito questa è la mappa di gioco ragazzi tanto per farvi un'idea tutta esplorabile c'è in mente ma allora posso crearmi il costore la e questo riguarda il guardiano ma non se lo trovo la faccia la tavola c'è la lettera in che in che regione mi interessa devi fare da solo tempo ci vuole che mettete la farmata per un bel po devi correre devi correre devi correre devi correre là c'è lo spazio per correre quando si attacca devi correre e giragli intorno ogni tanto te fermi e gli dai un colpo e poi scappi un colpo e via poi ce l'ho fatto anch'io eh sì l'unico modo mettiti leggero perchè tanto se te piglia ti bussai sia che sei oh god è un scherzo di Maeda di Maeda di Nio2 solo che la su Maeda è stretto e vai sempre la non lo corriva a fare quel Maeda eh una velocità di tirare ma lui parte da una parte a un'altra tu rimani incastrato la non ti puoi né scansare né schivare e ti fa sempre ma neanche Bratibo non gli serviva no no a Bratibo non gli fa niente l'hanno fatto apposta così poi mi sa che l'hanno l'hanno facciato l'ultimi 2-3 giorni l'hanno facciato lo hanno strapotenziato infatti quando l'ho affrontato la prima volta era più debole invece poi quando l'ho riaffrontato alla fine ed era impossibile c'è la prima volta a livello 30 gli facevo un mare di danni ci sono andato a livello 50 non gli facevo niente e lui vado avanti qua c'è la nostra prima borraccia d'acqua d'accordo hai fallo che gli mando un messaggio vabbè io sapete che faccio ragazzi figlio e mi vado a finire di Monzol e mi manca l'ultimo boss come sto preparato sto a livello 99 spero che gli abbassi si dovresti arrivare oh quel boss nino io ti consiglio tante frecce gli porti la vita quasi a tre quarti gli mangi e poi lo combatti ah si ma perchè se gli tiro le frecce non mi attacca ah no il trucco c'è quando arriverai su con l'ascensore appena entri nella nebbia che entri nella boss fight torna indietro ti fermi sulla nebbia e lo vedi miri con l'arco miri e lo colpisci buone frecce che mi fanno tornare indietro la nebbia no no c'è la porta chiusa e da lì quando li hai portati via metà vita lo attacchi attento che è veloce eh si ho visto ho visto qualche cosetta ma io lo faccio così io lo faccio c'ho le frecce che porta via 150 ah tu c'hai l'arcobianco no io l'arcobianco non lo posso portare l'ho fatto una volta solo con le frecce l'ho un giro con le frecce ma perchè lui non ti attacca se gli spari dall'altro non ti attacca no 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 non ti vede e non ti attacca è come un pigro lì fatto e se lo veleni? e non ho provato non avevo le frecce avvelenate il fuoco mi fa nulla le frecce del fuoco non li fa nulla però ho un paio di trucchetti lì io gli sparo la freccia santa con l'arco quello del fuoco perchè quell'altro non lo posso portare quello bianco non lo posso portare vediamo come va vedrai ma appena entri nella nebbia il tuo personaggio farà un passo avanti prendi l'oggetto torna subito indietro come se fai ancora un po' di passo avanti ti attacca bene entri e torna indietro dopo la porta è chiusa e sei fermo lì e da lì off I go to a camp a parto con le frecce avvelenate prendi tante frecce perchè prima devi fare il drago no no quello ho fatto tutto ho pulito tutto ho fatto tutto ho ammazzato pure quello è tutto pronto guarda devo solo andare la sono andato solamente sono tornato solamente indietro per posare la roba per alleggerire prendi un settecento frecce addirittura ecco che ci vanno un duecento trecento di sicuro perchè bisogna vedere quanti danni fai con le frecce se fai 30 40 si vanno un trecento addirittura quanto ha capiccio è tanto ma va bene ok grazie del consiglio ma niente Dino passo della se vediamo se sentimo oggi allora ciao ragazzi ciao buona giornata ce l'hai fatta? ce l'hai fatta? bravo bravo vedi tutto sta evitarlo un colpo evitarlo e so che è difficile anche io sono stato tanto tempo per farlo eh beh quello si sotto una miera ma quello è il più pistello quello è il più pistello quello è il più pistello ma se c'hai i amuleti con i lanci bradi con i lanci deboletta non è difficile allora come sta combinato abbiamo un perino di sette e un perino di fatica il 2 neo2 è bellissimo l'ho fatto alla beta proprio bello oh oh un'altra un'altra iiii ui ui che entro mezz'ora ce la facciamo così ho l'anello del campione e poi se mi gira le palle inizierò una nuova partita a dal sol 2 però è discriminato discriminato oh yeah se sei nel dal sol 2 non mi ricordo si è discriminato c'è eh c'è solo un bastone c'è un'altra un'altra no il bastone non ce l'ha in Dexosti due proprio senza niente si salvo che 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 come dici ti che che il bocco che c'ha e la fai giusto 4 di fila non dico altro non lo so il boccio guarda il tuo rock guarda il tuo record guarda il tuo record oh no il mio è 6 di fila non 4 6 di fila e lì a voi allevarmo il record no no sei tutto in una pazzata io no allora è un po' di città per lui eh io ho avuto fortuna una volta sola non lo so non lo so potresti giudicare? beh posso scrivere un bellissimo poema ho vinto un prezzo in scuola no non abbiamo già un po' non abbiamo già un po' prima che non ho due cose in questa boccia non ci sono troppi mesi si la voglio non cambia se sei convinto di prenderlo ti devi pensare si si eh non lo prendo non ci sono io mi sono arrivato il pensiero for it is upon you no no devi essere fatta andare qualcuno solo guarda i giorni non so guarda è questo è è possibile che non piace è più bello di uno non lo so 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 Sì, con uno solo, però mi sono andata in giocato con tre persone. Entra in giocato, con uno solo. Con uno solo, però mi sono andata in giocato con uno solo, però mi sono andata in giocato. Forse 640 di livello, Francesco. C'è, mica Muscolini. C'è, non mi ricordo quello, non mi sono andata in giocato. Tu pensi che uno dei articoli era abbastanza originale? Danny Defoe? Tu hai perduto un po' di peso. Per essere giocato, hai compito la mia parte linea per linea. Tu non mi ricordi, non mi ricordi. Non mi ricordi, non mi ricordi. Non mi ricordi. Non mi ricordi, non mi ricordi. Non mi ricordi, non mi ricordi. Il sentimento è mutato. E ti fai pronto, ma cerco dal persecutore e vorrai darmi una mano. Perché è la mia bestia nera. Posso essere il livello 700, ma non ce la faccio, non ce la faccio. Non è un casino. Beh, ma in due, in due è già meglio. Non fa niente, non fa niente. Basta farlo. Certo, tu vieni con il livello alto. Non tanto, perché non ci si può trovare. Cosa? Non l'hanno mai messo a posto. Non ci si può trovare. Perchè, prima di più. E' fantastico. Non ci si può dire che ci si intimo la mano. Va, la via, la via. Va, via, 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 via. Questa è che scappa. E' sembra che Di Grou è sotto un sardo. I can't even want to be here. ...4, 3, 2, 1. Let's spice it up, shall we, eh? How about we let the birds have a chance? If you lost your bet on Devote, now's your chance to have a double war quiz. Oh, a braided girl? Yeah, take it. Oh, I'm not too late to destroy the birds. A rat cap? No, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Just lie down. Oh, no, 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 no. You are food to go. It's been a real pleasure having you over. Catch you later. Let's all wish him well on his journey. I've got a signal. I've got a signal. I've got a signal. Oh god. There's some sort of vent. I wonder if I can pry it loose. I might need a jimmy bar. I suppose now that no one is actively trying to kill me I ought to be on the lookout for a motelist. Oh, ciao, ciao, ciao. That guy at the bridge said I'd need help. Oh, that's right. Let's put this one here. Where are you? I suppose I can figure out how to get rid of him real quiet like. I definitely don't want a crowd. Please just lie down. Please just lie down. What story is it? I want to learn. I want to learn. I want to learn. I want to learn. What? I want to know to come in the evening. ecco siete in due che giocate aiutatevi voi due this one hurt a bit io per il corpo c'è l'ho signo ci facciamo un'oretta di sonno così guardiamo definitivamente e dovrei anche essere riposato abbiamo fame e sete va bene non posso mangiare manco bere guardare questo è il razione di guerra questo me lo posso mangiare razioni di guerra un pasto pronto da mangiare fin da 1500 mentre l'assistenza massima ok ci mangiamo per avere uno status non lo status antistram antistram che cazzo significa antistram ok ok per i porco non ce l'ha abbastanza provo a usare una medaglia ma come vuoi io te l'ho detto ciao 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 Buongiorno! Oh, questo è per toccare i miei blocchi in la città! No, no, no! Ciao! 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 No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Sennò venivo volentieri! Io non ce l'ho installato! Eh, se vuoi... Dove? 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 Eh, sul volto della Valle Boreale? Oh! Non sento questa che chiudo, neanche un attimo, faremo più tardi, va bene? No, no, no! Adesso, adesso metto Dark Souls 3 e arrivo! Allora, bottiglia... Un po' chiudo, da 5 minuti, le guardo il mio! Allora, abbiamo... C'è una sede mostruosa! Eh, sì! Eh, vediamo se le trovi, perché... Ce le ho tutte potenziate! E non li puoi vedere? No, no, adesso vediamo, non so arrivare! Ok, hai recuperato tutto! Ah, va bene! Allora, abbiamo 7... Chiudo questo... Allora, e metto... Abbiamo 7... Metto il 3... Cambio chiavetta... No, non mi salvo! Ecco l'acqua! A posto! Non mi salvo con questo! Arrivo, arrivo! Arrivo le muri da crescere! Non c'è nulla! 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 Eh, no! Allora, se non vai la pietra... Metto... No, metto io la pietra... So, le pietra... Ehm... Ehm... No, non c'è nulla! Ehm... Ehm... No... Ok... Ehm... Oh bello, bello, cambulso il minileo da dentro, che cosa c'è qua, carbone, crit ed espansione tasca, che culo, vai, posso allogarmi le tasche, si si, vuol che chiudo, vuol che chiudo puoi cercare il minuto, ok, puoi cercare il minuto, si, va bene, puoi cercare il minuto non sei online allora, se non ti fa mettere, se la pietra bianca è scura vuol dire che sei offline pietra, pietra me la prendo, ok, allora il libro, non lo posso via, giusto facciamo sto bosco, non lo posso chiedere, bufo, allora, cosa, sopravvivenza in gioco, allora vado a riempirmi la bottiglia d'acqua, per adesso ci riempiamo la borraccia d'acqua, ok, metto il segno alla password, controllo, si, metto il segno vicino, fatica, fame e sete, apporto, ok, vicino al falon, ok, posso portare 135, no, 104 di peso, cosa, questo è il cibo, questo è il cibo, cosa, lo vedi segno? qua siamo arrivati al paesino, eccolo qua, si, lo sappiamo, ok, qua le regole sono, che quelli di città non li possono vedere, lei la di città l'hanno ammazzata, quindi imboschiamo il cadavere, no, vabbè, braccia ai bracci, aspetta un attimo, mattiniero, è uno status, aumenta leggermente la rigenerazione della salute quando dormi, perfetto, vorrei che l'abisso, ok, non ci interessa, ma non le vuoi? allora, da cavolo, eccola qua, allora, aspetta, prendi anche le anime, ormai le mani veloce, carbone, adesso vediamo le armi, carbone, sospetto, aumenta il 5% la velocità di creazione, buono, 5%, è quella del DLC, che armi vuoi? ok, qua quasi non mi impacano, per niente, adesso, bottiglia di vetro non mi interessa, mi ha detto che i locali non potrebbero essere così benvenuti, sì, ma mi ha levato a te la darò, oh, panna di accai, non so, è bella, è bella, ce l'ho completato, la cazzata, qualcuno è qui? sei un turista? sei vestito come uno, oh, cazzo! Sì, ci siamo felici, è buona, è buona, è buona, è buona, un scuder di solare, ok, e io qui sto dando tipo, oh, no, questo è incredibile, il tuo funerio? eh, ci ha preso i calzini, va, non ci interessa, dai, qua c'è, la cona, carne maccia, non ci interessa, qua, vediamo cosa c'è, una strategia, scassinatore, buono, un segetto, allora, tieni qua, le tue medaglie, tu dammi le chiave, quando vuole c'è grazie, si, no, ma è bello il gioco, allora, tieni porco, Tripoli, che sono i chiodi chiodati, ok, questo non mi interessa, il Whisky mi interessa, che temerico mi interessa, qua ci dovrebbe essere un libro di potenziamento, qua ce n'è uno, prestigiatore, che fa prestigiatore? io sto mettendo giù tutte le armi, prestigiatore aumenta, moderatamente il raggio d'azione, dei diversi e degli oggetti di distrazione, se non hai le armi più 5 o più 10, non puoi prenderli, ok, si, non c'entra, devi avere, c'è l'arma, polmoni d'acciaio, io ti posso dare solo, allora le armi d'acciaio, ormai d'acciaio, riduce leggermente i danni causati da nebbia notturna tossica, buono, l'ambito si può usare, allora, ma buono, adesso ti do le armi, ho preso i falcetti, allora devo cambiare il vestito, se no mi ammazzano, allora devo cambiare il vestito, quindi devo trattarmi il vestito, quindi si va qua, abito a scappare, e adesso non mi fanno più niente, ti do le armi a zero, faccia qua, io devo entrare per forza qua dentro, dove entrare, quindi non mi devono vedere, leggi il libro, le stuzioni, ok, si parla sulle, edizione 1964 del Mr. William Cite, alcuna sorta di viaggio, nessuno viaggio, ma che vuoi, questo significa che è qualcosa di più, sembra di viaggio per esprimare il distritto, ma che utilizza, ma chi è il Mr. Cite? è venuto non c'è un caso silenzioso il libro che fa silenzioso allora silenzioso silenzioso crocco dice dopo a 100 rumori causato dai passi buono anche lei è venuta portata marcia non ci interessa si certo non devo lasciare traccia ok adesso abbiamo una cassaforte adesso mi schiappo la spiga questa che è non mi interessa usa lo scastinatore ok piedi porco ci sto avendo un po' troppo roba allora vediamo un po' ci dobbiamo un po' alleggerire ora questo via 20 sono troppi ne buttiamo 10 sono troppo pesanti questo non mi interessa allora quello mi interessa quello mi interessa la pala ok me la tengo ok va benissimo così allora per aprire qua c'è il trucco per aprire qua c'è un semplice trucco basta fare così ok ok ecco fatto questo di qua non mi interessa baule bastone non ci interessa quello mi interessa adesso te la do i pezzi metodi non mi interessa me la cavo te la do poi questo abbassano curativo mi interessa poi devo chiudere 1 2 3 e mi interessa come siamo messi a fatica ok fammi siete fatica ok adesso posso aprire qua la cosa ce la possiamo fidare una pala asatto allora lasciamo non ci devono vedere qualche non ci hanno visto ce la possiamo fidare una pola io mi pareva una pola ce l'ho si è apposto quindi non mi serve che ora devo andare a fare uno scavo e andiamo a fare caccia al tesoro ecco il tesoro qua questo non prendi questo e qui un punto di scavo ok a spada spinata andiamo al primo punto di scavo l'armatura qua ci sono piani da storni che si vengono solo ogni notte ok il punto di scavo è da questa parte madonna non dato il scudo perché non trovo il scudo non posso dato il scudo perché è più dieci adesso te la donna armatura vai scava abbiamo trovato il tesoro spero che c'è roba buona un altro occhio la mazza la posso buttare che è presente anzi no me la tengo la mazza dai allora altro punto di scavo è qui punto di scavo ok andiamo punto di scavo ho scavato semplicemente ho scavato che c'è una cassa una cassa nascosta sta venendo qua come dice punto di scavo ora saranno qui sta andando a scavare uccidimi 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 che poi carico tutto come no ah si che vuoi mi manca un quarto mezzogiorno la moglie già mica non può anche una cassa dopo si aspetti alla mezza torno allora io vado via perché ciao figlio dopo si devo caricare è andato via te niente niente allora carico ha detto qua c'è lo scavo c'è lo scavo carico in un punto dov'essere qui lo scavo dov'essere quanto mi stavo ricarichiamo da cavolo lo scavo eccolo qua eccolo qua trovarlo ho messo la cassa ecco fatto baule carbone uno scassinatore me lo prendo ok allora una mazza la buttiamo che è troppo pesante uno scassinatore ne ho due dieci triboli sono i chiodi allora come siamo messi abbiamo un peorino di sedo e adesso posso continuare la mia missione però prima devo acquistarmi delle borracce se no non si va avanti ne ho una sola credo che sia piena giusto? la borraccia è piena si prima adesso me ne compro altre se no si gioca male viste con un po' di soldi che ora ha cimolato ce la compriamo qua ciao 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 borracce me ne posso comprare 5 per 8,40 5 allora 1 2 3 4 ok adesso me ne vedo riempire e così ho un bel po' d'acqua di riserva il cibo non mi manca quindi sopravvivenza garantita che qua devi dormire mangiare e bere capito francesco? allora sto riempendo le borracce d'acqua ecco qua perchè me ne ho fatte solo 2 perchè me ne ho fatte solo 2 perchè me ne ho solo 2 scusa il cuore perchè è piena il cuore e l'energia e il cuore si e l'altro è il sonno si perchè non mi ha dato il resto del del non ho capito perchè non mi ha dato le borracce solo 2 che strano ah ho comprato 3 pomperni che coglione vabbè ho comprato 3 succhi di pomperno ma che coglione vabbè non importa qua metto la cella qua metto la tessera ok api di sesamo e ce ne possiamo andare guarda 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 quanto è grande la mappa francesco guarda questa è tutta la mappa va a esplorare eh hai visto quanto è grande un po' sotto e andiamo alla stazione hai visto quanto è grande oh ok è grandissimo ancora ma qua ci sono ore e ore e ore e ore di gioco oh ho visto allora sono sotto un effetto di stato visto che ho vomitato sono eh qua no è passato l'effetto di stato è la nebbia che è mi raccomando mi raccomando mi raccomando la stazione 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 allora raggiungi la stazione ma dove mandare qua letto la straniera trovo il portello di elderfield no andiamo lì andiamo allora c'è una guardia che se mi vede mi attacca quindi mi devo nascondere e io vi faccio l'attacca a sorpresa e poi devo dire sono dei punti abilità da metterla questo lo devo imboscare che cazzo lo imbosco lo imbosco qua allora quella è la pala qui in bandello allora butto una pala ci non saremo troppo pesanti ok butto questa nella usata e usso questa lì ok allora punti abilità eh zero punti ancora eh vabbè non importa allora mappa sempre gritto eccola là cosa? ricominci dall'ultimo checkpoint no non l'ha fatto dove c'era la nebbia il checkpoint no non just relax non question puttale Buon appetito! No, attivano un po' di tempo, di questo mi sta facendo un bocca di danno, ok, si curiamo, ecco fatto. Io sto facendo il modo che lui non li uccida, perché io se volevo lo uccidevo, mi mettevo il ferro e lo uccidevo, è perché voglio fare un filane buono, che lui non è un assassino, quindi non li uccido, li stordisco, capito? Allora, vedo un bosco qua, qui hai, se posso evitare non li uccido. Certo, l'ha colpito punto di scavo, c'è un altro punto di scavo. Allora, c'è un punto di scavo, questo che si deve caricare, il punto di scavo, qua sblocco l'acqua, ok, bevo, ok, il punto di scavo, questo di qua, il punto di scavo è da questa parte qua, e noi ci andiamo, e noi andiamo al punto di scavo, che è da questa parte. Vediamo se trovo roba buona. Energia, la piappa, cibo, energia, energia, cibo, ancora sono gli istanti. Quando si all'acchia all'acchia all'acchia? Oh, it worked for a decade and a half, didn't it? E' da questa parte da questa parte, non lo so' a punto di scavo. E' da questa parte. non so se ci arrivo da qua non so se ci arrivo da qui parquodam qua volontanamente ho scoperto una secondaria carne purtrofatta no grazie parquodam che c'era qua un'espansione kit per le tasche buono molto fortunato eccolo qua crit espansione tasca allargiamo queste tasche va a posto no è lontana da lì non ci possa arrivare ci andremo più avanti adesso seguiamo la storia qui 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 vediamoci dalla strada che è pericoloso ho già una bella riserva di cibo 10 9 7 fortuna 2014 ok qui 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 non evitare di combattere vorrei evitare di combattere l'ho disseminato ok Ok, qua c'è l'intera straniera, sì, questo mi interessa l'intera straniera. E' qui vicino, sì, qua c'è una maschera, sì, mi ricordo che c'è una maschera o c'è un l'acqua. Eccola lì. E' a posto. Questo è il nostro patello persi, che noi dobbiamo trovare. Gli altri due, non ci si tratta. Noi abbiamo fatto, guarda, ma non parlano di questo, magari hanno chiamato lui. Possessi fare questo? Chi si va a farlo? Non si può ascoltare. Gli Alemani possono fare tutto ciò che vogliono, a quando qualcuno suscita loro, per esempio, i russi. Quindi, come... Quindi, che quando viene? Quando viene? Allora, qua ci dovrebbe essere l'enigma dei quadri, spero di ricordarmelo, spero. Allora, a ferro come ci siamo messi? Dieci, no, basta e avanza. Andiamo corrente, ed entro da questa parte. Ok, il filo passa da questa parte. E adesso mi do a ricordare l'enigma del quadro. Questa mi può servire. Anche questa. Qua c'è la macchina di gas, eccola qua. E qui c'è l'enigma del quadro. E qui c'è l'enigma del quadro. Eh, sarà un problema, sarà risolverlo. Chi se lo ricorda? Allora, adesso leggo. Apri, eh, lasciamo. Scegli un cibo, la mia pulsante. Eh, lo so, è tutto casuale. Allora, abbiamo messo, mettiamo stella, mettiamo cerchio. Ok, ti dà la leva. Tutti sbagliati, perfetto. Che culo. Finchia. Senza farla apposta. Che botta di culo. Sono sbloccato in nascondio. Allora, la cella c'è messa. Eh, dove sta il generatore? Ah, eccola qua. E lui c'è qua. Lasciamo pure dei progetti. Allora, disponibile, il tuo diario, i tardi. Non c'è sembra niente ai tardi. Altro progetto. Spaccatore, questo è buono. Spaccatetta. Gli dammi pure qua. L'aiuto. E l'altro progetto è Tripoli, Chiodi. Vabbè. Allora. Una po' la progetta, ma la tengo allora. Allora. Possiamo un po' di roba qua. Possiamo. Allora. Possiamo. Una pala. Possiamo. I Tripoli. Do stanno i Tripoli. I chiodi. Eccoli qua. Via. Borraccia. Questa borraccia contiene acqua come... Quindi ho una borraccia. Perché non me la... Mamma ti la... Allora. Poi, 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 poi... Tutto il resto mi serve. Ok. Un altro punto di scavo ho trovato. Punto di partenza dove dobbiamo arrivare. E che cavolo. Ci sono due punti di scavo. Uno qua e uno qua. Vabbè. Poi, ci andiamo con calma. Allora. Adesso mi sblocco di fuci. Mi prendo il nastro. Mi farei un pezzettino di sonno. Sì, fame e sete. Quindi... Ci facciamo... Prima dormiamo e poi mangiamo... Oddio. Ok. Facciamoci... Eh. Well, you've made your bed Arthur, haven't you? Dove averci più fame più sterile, giusto? Sì. Ok. Mangiamo... E beviamo. Allora. Mangiamo... E ci beviamo un pompermo. A posto. Allora, chido la leva e il posto diventa mio. Ok. È tutta roba mia. E lì qua me ne posso andare. Ciao. Tutto bene. Allora, io posso creare... Posso creare... Il mantello. Quelli non mi devono mai mancare. I dardi e i triboli. Posso creare dai progetti. Un basso curativo ne posso creare. A voi. E nella chimica ancora niente. Nella chimica. Va bene. Andamotene là. La maschera anticastro l'ho presa. È un malafilo. Non lo raccogli. Ok. Cosa c'è? Un randellatore. Un altro punto di scavo. Buono. Allora, cos'è l'allenatore? Allora. Riposa. Ok. Ma... Non ho distratto? No. Ok. Ho un altro punto di scavo. Quindi ho tre... Ah, eccoli qua. Tre punti di scavo. Uno. Uno. E tre. Meglio ricordare andarci poi. Allora. Qua. La maschera l'ho presa sull'aereo. Ah, il macchino. Perfetto. Ah! E qui è? E qui siamo? La stessa è forte io. Devo fare il giro per incontrare Olly, il vecchio psicopazzo Bombarolo. Allora, se ne devo fare un po' di qua, lì là, ecco. Arrivo, arrivo, un attimo, eccola qua. Dovrebbe partire la full motion, ok, vai. E quello di sopra è Olly. Quello di sopra è Olly. Quello è Olly. Quello di sopra! 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 Devo vedere! Sì! Sai, non posso comprarmi le boracce, cazzo! Porca la miseria! Quello di sopra! Ah, passa quattro volte il soldo! E' una sovrana che è morta di fame! Qua non te la fa nessuno! Quello di sopra! 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 Che lipeggono! Serve, bravata! I lo siamo delle persone! Rai! Guardate, mani! Uria! 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 Sici tu! Cristo era solo! ci hanno rotto ma hanno rotto il tubo con niente non l'affanculo è strana, purtroppo la dovete ammazzare ma la mozza me la prendo, che una si è rotta questa roba è acquisita non è capito, non è capito now we see the violence inherent in the system all right we have left I will take this one I will break the pole so I need to take this one prendo un'altra arma la mischia batteria, bottiglia di vetro cazzo, è stata una brutta caduta una bruttissima caduta la torcia bene, ora devo trovare le tracce e andare fuori di Wellington Wells leggi 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 la lingua è adbc quindi a d b c bottiglia di vetro c'è la mia come è presa, come siamo messi 52,606 un po' di fame e un po' di sede quindi io quasi quasi mangerei mangerei una di questa ok 7 da cucito non c'è più nient'altro ok e qua ci vediamo che mi farà un bel po' di soldini ma non mi interessa ok ok c'è 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 x c'è 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 il 2 sovrani quattordici sovrana 17 sovrana niente male 18 sovrana batto flashback ma non ci interessa forse non posso scripparlo e qua c'è la trappola una bombazza quasi quasi una paloma allora io mi metterei la bombazza eccola qua già equipaggiata e ce l'ho in mano perfetto così quando arrivano i tre stronzi si scatta la trappola perchè io purtroppo dovrò cadere in trappola vedi che è strunciata ma purtroppo dovremmo cadere in trappola ok siamo guardati qua cava sovrana 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 come si c'è io ho tirato una canata quello a vabbè se posso tirare la cosa vabbè 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 12 buttano i due, un balsamo curativo fa sempre bene, perché c'ho le freccette in mano, no, no, si, ok, 4 sovrana, 4 sovrana, 11 sovrana, 21 sovrana, voi, ho fatto un bel po' di soldi, ho fatto, e qua c'è ho lì, ho lì, ho fatto un po' diarest, Lari, cosa vuoi fare? Pensi che ti avessero? Non, hanno fatto il mio bambino. Cosa? Scusi? Non, ovviamente non. Non, hai fatto tutto. C'era Jack che ti avessero, e io ho cercato di salvare. Certo. Mi ricordo ora. Voi tornare. Per la stazione. L'unico. Non pensi che lui ha scusato? Perci? L'unico non sono animali, sai. C'erano solo per assicurare che stiamo tranquillamente. E abbiamo fatto. Un po' di tante? Tu è molto bello, non sono freddo. C'è certo, Margaret. Ma dovremmo andare a fare l'acqua. Ho dovuto trovare. Hai capito di dove dovrebbe essere, dopo tutti questi anni? Non, veramente. Ho dovuto andare fuori di Wellington Wells. Ho dovuto fare l'acqua per il treno. Ho dovuto fare l'acqua per il treno. Hai. L'acqua per il treno è l'acqua per il treno e la Parade. E buon l'acqua per l'acqua per l'acqua per il treno. Hai potuto stare qui. Ho dovuto stare qui. Ho ricordato quando tu e Sally stavano con me. Quando... Ma è un'artica. Meg, tu ricordi l'artica, non ti? Tu ricordi. Noi. Nasi? Tu ricordi. Intanto. Cosa cosa. Ma è meglio. Ma dimenticare è meglio se mantendere da propria. Oh. Scusate di perdere. Ma... Margaret thinks we could help each other Really? Brilliant There's a warehouse in the old German camp We could burgle it The Victory Memorial Camp Where all those home army chaps run around Practicing stabbing people with bayonets What do you want me to do there? Run around yelling Here I am, shoot me While you go in under the wire There's a thing I need from their warehouse If you help me I'll get you out of Wellington Wells I just need you to turn off the power Should I just show myself out then? Ollie? I don't actually know the way out, you know? That's Margaret From school Margaret What's her name? She was supposed to go on the train But then she disappeared And no one would talk about it I need you to go on the train I need you to turn off the train Well, I know what is he doing He has a great deal He has a great deal He has a great deal He has a good deal Non è ucciso tutti i boss, si ma non è ucciso tutti i boss ancora, non è ucciso tutti i boss, fidati, dimmi le anime dei boss, dimmi le anime dei boss Allora, cinque, poi, ce ne sono ancora un mocchio Devi girare, allora, ti manca il purrito, dove devi andare dove c'è maciula, dove c'è il pozzo, devi scendere giù, devi andare alla gola nera e c'è il purrito, lì c'è più o meno dlc Poi devi andare a crocevierre la rovina Dove c'è il pozzo a maciula, devi scendere giù, devi scendere, però hai bisogno di andare al gatto, hai bisogno Metti quello, scendi la maciula e vai alla gola nera e affronti il purrito e lì c'è il primo dlc Beh, c'è ancora una caterba di mostri da ammazzare, una caterba Sì, ma sono ancora poveri, ce n'è ancora un sacco, più di una quindicina ancora Sì, sì, un mocchio Poi deve trovarsi le chiavi per entrare nel dlc, deve trovarsi, non è facile trovarle Allora, tre punti, dicevamo Io opterei per il combattimento Se è più sano, quindi... Sì, ok, compro questa Allora, fammi la mappa Allora Il dramma scorsese Va bene Il dramma scorsese Non mi ricordo che cavolo missione è, boh Non mi interessa Ok Ok, sempre detto di qua Ah, al bunker dobbiamo andare, vero? Sì, qua li ha stessi holly li ha stessi Di ha stessi holly qui, allora qua c'è balsamo, balsamo Bende, bende, quando hai l'emorragia Ok Ok Il dramma scorsese Questo è un uomo molto gentile a me, e l'ultimo più bello con il suo uomo, è chiamato un uomo, ma quando sei in Eve, devi chiamarlo, e questo è un uomo, e l'uomo è chiamato in esattamente la stessa direzione, e l'elepidio si riuscirà a farlo e inizia a cominciare e praticamente se ci sono, eh, lo dice la stessa, lo dice la stessa frase, se ci sono nemici morti per te, usando, eh, ti ho detto, utilizzando quella, è un malocchio credo che sia praticamente, sì, esatto, li fa esplodere, quando un nemico si avvicina e esplodono Ma di che gioco parli? Ah, non è una campanella, è un miracolo che devi trovare C'è stampato un omino blu, c'è stampato Sì, ah, eh, il disegno c'è, eh, te l'ho detto, c'è stampato una figura blu, umana Carne cruda, che cazzo mi prende la carne cruda? Gustosa e sostanzialmente attenzione agli ossicini, aumenta l'assistenza L'intossicazione alimentare, te credo, cruda, te la mangi, cruda, te la mangi Io però qua non ho capito mai come si fa a cucinare No, la scarsa Allora, il bunker è da questa parte, bunker C'è una maschera d'oro qua Ok, qua Ok, qua Andiamo via E qui c'è Olli Ecco qua E qui c'è Funcione E qui c'è E qui c'è Dio E qui c'è E qui c'è C'è E qui c'è C'è barricanti siamo noi contro i tedeschi, però sono tedeschi anziani. Oh, Ollie's sleeping potion for those chaps on the bridge. Ollie said there was a hole in the fence in the dump. That sounds much safer than walking in by the front gate. Eh, è un blu con la faccia stampata, mio padre. So the sergeant says, I didn't think you were kind of large training. I'm going to make the officer a few days. I'm going to make the police. I'm going to make the police. Sono in live Come faccio se non ce l'ho strallato io da XS3? Come faccio se non ce l'ho strallato 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 Ma quello non è un boss Diciamo di sì diciamo Come faccio se non ce l'ho strallato 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 Non ce l'ho strallato Attention all personnel Tonight's movie will meet King Arthur with a gentleman don't miss this uproarious comedy non sa mai l'incontrare perché sei in game è il più difficile di tutti dico lo dicono tutti quanti prova a farti il patto dei campioni a magiula si fa non puoi evocare nessuno non puoi evocare né aiuti niente subisci 25 per cento di danni in più e ne fai 25 per cento in meno ai nemici non è non è tu, è io Sì Vabbè essere Però è più sicuro che io la credo a Silvio Se qualcuno trova il compito di Elston privato Riturandolo a una volta Non è il ragazzo che ti dà in maniera Sì, è un musicista nella band Per favore non faccia un ragazzo Allora pane Il pane me la chiappo Lo zucchero me la chiappo È un componente chimico Però quanto ho perso? Ok, 5 punti abilitavo Quindi io pomperei ancora su... Mega buff A posto Ok San nitro per fare gli esplosivi Miele è utile Ce lo miniamo Pana via Ehi Ciao ciao Com'è che aumenta le armi? Rafforza La forza Orcan E ti va a filiarmi Ah La campana La campana di Kaita Di come si chiama? No Non è solo la campana Ma ci vuole anche il miracolo Quello blu Quello con la faccetta blu Che non mi ricordo come si chiama Eh Non mi ricordo Non mi ricordo come si chiama un miracolo Cosa ti serve? Un aiuto? O vado sul mio gioco? Cosa lei lei Cosa lei lei Cosa lei Cosa lei Ancora lei Cosa lei Ma non è Non mi ricordo Un' 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 è Hellcats at Ramsgate. Questo film di guerra mostra una delle vittorie di Britannica. Non lo so. Molto bene, signor. Spettacolo, signor. Sorry to bother. Sì. Devi andare da me, da come si chiama? Da Nicolassa. Le parti basse. Non mi è arrivato ancora niente. Adesso mi è arrivato. Aspetta che, guarda. Ma sei... Ma dove sei qui, cazzo? Non mi ha capito, andove. Ti ho detto, devi andare da Nicolassa, devi guardare. Devi andare da Nicolassa e buttare il cervello nei catteranei. o c'è... La nostra attività... Mutalo. Ah, sì, sì. Capito, arrivo. Arrivo, arrivo, capito. Metto fuori, metto fuori. Troppo non capisco. Metto fuori, fuori della nebbia, metto i segni. No, non c'è pizza niente là, no. Devi andare da Mensis. Corda vivente, si prende da Mensis. A chi se ne frega che l'ha uccisa, tranquillo, vai lì nel quadro. Sai che c'è quello cervello che ti dà follia? Ah, qualunque quadro, qualunque quadro di là, lattico, di base, ovunque, dove vuoi. Ma che sta dicendo? Devi buttare il cervello, quella che ti dà follia, lo devi buttare nei catteranei. Come sei ne faccio già lì? Non hai fatto il bottiglio, lo butti giù, poi poi stabilisci contatto e ti dà cosa vivente, l'ammazzi e ti dà una runa. Cercat distruzione, noi cosa stai cercando a fare? Ancora e lei, non c'è nessuno. Cercat distruzione, noi ci siamo assaggiati. Essa è stata accacciata di casa. Cercat distruzione, noi ci siamo passati delle persone in casa. Cercat distruzione, ceci di appena, doveva e spiegare il tempo. Cercat distruzione, noi ci si trova. Cercat distruzione, noi ci sono la partearenca. li archivi non puoi andare devi andare dopo vol della valle boreale e andare avanti d'alì devi andare all'ombra delle mura insediamento di non morti, ai piedi della ruta, punto pericolante guardi, hai la lama bastarda devi entrare dove eravolto della valle boreale, vai dall'altra parte devi andare a prendere la bandiera dentro nella danciatrice appena la bandiera ti porta di là, troverai il mio segno e il pallone eh eh eh, bravo campanile delle campane, delle gargaglie ancora lì finito devi andare avanti e fare la peccatrice per due la peccatrice per due è un'ombra delle mura se sei dentro della danciatrice e parli con la vecchia che ti dà il b... ti... ecco io appena ti teletrasportano a quel pallone c'è il mio segno no, tu alza la bandiera i tardoi ti teletrasportano chonfalo e sono io no 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 sì sì ecco ecco l'ho rimesso ah bravo no 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 ma devo andare da nicolas devo andare devo andare da nicolas c'è la corda vivente c'è quello che serve a lui c'è l'oggetto devi buttare il cervello giù quello che ti dà follia devi esplorare e nei sotterranei c'è un ascensore scendi giù poi stabilisci con se stabilisci contatto e ti dà cosa vivente la macchia ti dà una runa no penso di essere stato più che così fai il gesto prima fai il gesto deve fare prima stabilisci contatto io l'ho detto grazie 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 driven c'è tra le ventette la scienza da gabbia non c'è una porta per andare lì è nei sotterrani dove ci sono sì sicura è quella che ti manda nei sotterrani dove è tutto buio mi trovi e poi il falò più avanti dai farò più incendiamento della morte non c'è un po' No, 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 no. No, ma tornare. Sessi. Tutto. Finti, finti. Finti, finti. La lavamma, è punto, abbiamo secca, allora, su così, ma vedi, darò l'armatura, ok, a posto, è andata, non si può passare, non si può passare, nei miracoli, nei magie, te lo dico subito, ma la campanella non serve a niente senza il miracolo, in certezza, la campana di cristal, allora, allora, probabilmente, come in the way I got out in the back of the station. Allora. I pantaloni non ce li ho doppi, devo levarmi i miei, perché ho tutto doppio, meno che i pantaloni. come on up. come on up. Allora. qua, è completa, adesso mettitela, prenditela qua. ok, c'è altro, ancora un pezzo qui. come on up. 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 Non sono morto per il miracolo, non si sa come. Te li ho dati? Me li sono riporti da me! No, no, io l'ho dato l'armatura degli anelli. Gli ho dato. Che livello? Sei in prima run? Allora, già giuro, già è furia, già è furia, qui non prendi l'osso di Loretta, non ti interessa. Allora, cambiamoci, 5 punti, mi potenzio ancora. Ultrabuff. Ah, 8 punti per Ultrabuff. Pugno di ferro. Allora, cambiamoci, mettiamoci. Se fosse Percy, andavo solo promenadando, chiedendo perché tutti stavano stare. Pugno di ferro. Non hai fatto un po' molto importante per prendere le tue. Oh. Ah, cazzo. Ok. Aby da moda. Ok, fatto. Perfetto. Il resto non freddo. 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 Ok. Il resto non freddo. Non freddo. Non freddo. non freddo. non freddo. Il resto non freddo. quando freddo. non 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 freddo. Dalle un colpo a uno qualsiasi No, rompere le pale, è un po' bravo Ok, andate Andate Ok, perfetto Ah Si, mi ha preso Ora, prendere la mano Pregolare la mano Ok, ora andate Ecco, ecco ancora Hele c'era la mano ecco, ancora un colpo e va, dammi la mano, ecco, via adesso devi fartela tutto da solo fino alla frontezza di me, ma è pure solo che correre, dai, intanto attraverso il ponte di pietra, corriendo, entri nella porta e prendi l'ascensore e vai giù, sotto trovi il cavaliere di riti e io scappo fuori, accendo il foglio fuori, poi da fuori lo faccio fuori non ho capito, guarda, puppo cosa adesso devi andare sull'ascensore, lì, e parli con il cipollino, lui va giù tu prendere l'ascensore e vai giù, parli con il gigante, capito? lì deve fare da solo, lì deve fare da solo fino alla fine la fortezza di mezzo deve fare da solo allora io posso caricare oh no tanto che bailava vado sul 2 perchè devo farmi il patto dei campioni devo farmi il patto dei campioni manca poco ma chi? con chi? con chi ce l'è? con chi? ma non l'ho capito ma con chi sta combattendo? e chi? amica da chi? faccio come che fanno con me ma è facile una cazzata un colpo è vero non ci vuole niente ammattare no strano quando io dico che sono tutti difficili tutti mi rispondono così no una cazzata dai un colpo mi sento mi sento sempre un'idiozza ma dimmi smarrito franzetto c'è tutti l'arcano quello che hai ammattato come un porcello franzetto è quello che vi trovate allora bravo adesso adesso ok eh ma certo ora che manca che manca ancora un paio di di carrile sono lì siamo arrivati in città adesso salvo che sono un po' stanco si che hai detto un attimo per salvo la partita non c'è franzetto perchè non ci sta capendo niente il parade non c'è 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 il parade allora fammi il sabato automatico dai guarda l'office del governo di printing office era in Maidenholm magari potrei rompere il parade non c'è non c'è non c'è non c'è ok sabato automatico dai e posso salvare la partita ok adesso un attimo un attimo devo fare per me dimmi quando mi vedi sempre con la smarrita tutta la smarrita c'è usi l'arcano sei già arrivato alla fortezza di mezzo ma non hai preso niente c'è un casino di cose da prendere ciao 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 ciao